Il programma Cipe Termi Plus Anche questo come vediamo ha un'impostazione analoga agli altri programmi di calcolo nel senso che presenta la stessa tipologia di struttura d'albero sulla sinistra e un ambiente di controllo, definizione e modifica dei dati sulla parte destra la composizione è generalmente molto simile nel senso che viene permessa l'inserimento strato per strato degli elementi l'importazione delle stesse tipologie della biblioteca che usiamo per gli altri programmi di calcolo ma soprattutto la principale caratteristica è la possibilità di condivisione del modello geometrico del nostro edificio quindi andiamo a recuperare il file IFC che abbiamo salvato nel primo appuntamento a partire dal programma IFC Builder e possiamo collegare le tipologie che abbiamo appunto segnalate nel nostro programma di modellazione alla biblioteca che condividiamo tra i vari programmi quindi effettuando questa importazione la biblioteca delle tipologie verrà appunto riempita di quelli che sono le caratteristiche geometriche e di calcolo che abbiamo appunto disponibili nelle base dati e come sempre appunto viene segnalato poi su che elementi del nostro modello stiamo lavorando muovendoci sulla struttura ad albero ci sono alcune caratteristiche che variano leggermente per esempio nella definizione di locali che abbiamo visto con caratteristiche simili nel programma CIP Time Load è possibile per esempio se guardiamo su PC1 andare a definire profili orari che per quanto riguarda appunto la simulazione a regime dinamico diventano di fondamentale importanza per appunto la possibilità di analisi a livello orario e giornaliero di quelli che sono le prestazioni energetiche del nostro edificio io a livello esemplificativo ho definito tre tipologie di profili un profilo per il periodo di raffrescamento uno per il periodo di riscaldamento e un periodo che vale per il fine settimana le possibilità di definizione appunto sono molto varie e da qui è possibile andare a realizzare nuovi profili con caratteristiche di carattere appunto orario o a livello percentuale quindi di accensione e spegnimento e a livello orario definire l'abbiamo già leggermente visto ieri definire un andamento per appunto le varie situazioni e le tipologie che stiamo analizzando all'interno del nostro edificio è chiaramente possibile realizzare anche qui un'esportazione perché è chiaro che l'ottenimento di questi dati la definizione di questi dati non è sempre rapida ma può essere invece condivisa tra vari progetti e quindi l'esportazione in una biblioteca personalizzata che diventerà poi la fonte dalla quale attingere le varie caratteristiche per oltre che le tipologie costruttive per le caratteristiche appunto dei nostri locali realizzati quindi questa associazione anche per quanto riguarda gli elementi costruttivi che abbiamo già visto anche negli altri programmi possiamo tornare ad effettuare l'analisi dei ponti termici lineari anche qui è presente questa gestione appunto da parte del programma con un'associazione dei valori corrispondenti alla normativa appunto utilizzata sono presenti alcuni casi che per varie motivazioni possono non rientrare nel calcolo automatico e viene chiaramente lasciata all'utente la possibilità di definirne lo psi e con l'utilizzo di varie normative o la normativa 14683 la normativa 10211 o inserire un valore di carattere appunto arbitrario per la provenienza magari da altri strumenti di calcolo a questo punto come vediamo nella parte alta del nostro progetto del nostro appunto programma non ci sono più spunti arancioni che ci segnalano l'assenza di definizione di elementi ma dobbiamo passare alla definizione invece di quelli che sono i sistemi impiantistici come segnalavo viene recuperata una struttura proveniente dal motore di calcolo Energy Plus e quindi caratterizzata da anche una mole di inserimento dati abbastanza importante vengono definite lo vediamo in queste finestre di dialogo soprattutto per distribuzione e impianti di generazione vengono richieste appunto una vasta quantità di dati che è possibile introdurre manualmente o anche qui andare a recuperare dalle solite biblioteche personalizzate che possiamo generare o trovare a disposizione nel programma una volta definite queste tipologie di impianti magari andiamo a definire come stiamo ragionando appunto per il sistema di raffrescamento con i valori di default dei sistemi impiantistici e passeremo poi possiamo andare a segnalare appunto come vedete anche per la parte di unità terminali varie tipologie di elementi e varie caratteristiche degli stessi con riferimento appunto alla zona termica che si sta caratterizzando una volta definite queste caratteristiche qui parliamo invece della parte di riscaldamento quindi si tratta di un sistema idronico che garantisce appunto il soddisfacimento dei servizi all'interno del nostro edificio una volta definite queste caratteristiche dicevo sarà possibile già passare alla parte di dati di caratterizzazione del nostro appunto della località nella quale stiamo andando a lavorare andiamo a vedere dove viene richiesta appunto la definizione del riferimento e in questa finestra di dialogo ci viene permesso appunto di importare i file con estensione e pv doppia che sono caratteristici oltre che delle basi date appunto meteorologiche utilizzate appunto da in energy plus anche dei per esempio le stazioni ARPA che quindi permettono a livello locale in Italia di andare a importare vari parametri climatici per le varie località e da qui ottenere un la distribuzione del vento l'irradiazione globale il piano orizzontale e l'andamento annuale della temperatura esterna con un livello di dettaglio e un livello di variazioni chiaramente abbastanza elevato per poter corrispondere appunto ai profili di utilizzo che andiamo a segnalare che potrebbero essere o dovrebbero essere a seconda della precisione che si vuole utilizzare nel calcolo di livello orario una volta recuperati questi dati appunto è necessario andare a definire alcune delle dei parametri del calcolo che utilizzeremo appunto per l'ottenimento dei risultati e possiamo passare a questo esempio che abbiamo già appunto preparato per la presentazione di oggi che nel quale appunto vediamo un edificio una palazzina per uffici multipiano nel quale sono state definite le zone con caratteristiche di riscaldamento e i corrispondenti profili e di raffrescamento con definizione appunto dei sistemi impiantistici e possibilità di ottenimento già dei dati di calcolo gli output appunto presentati sono di varia natura intanto una prima analisi del modello che ci permette elemento per elemento di andare a analizzare e continuiamo a vedere appunto anche nella vista in tre dimensioni il riferimento agli elementi sui quali stiamo lavorando con definizione tra le altre cose di ombre proprie o ombre provenienti da edifici adiacenti o altri elementi esterni il primo file che andiamo a visualizzare è di carattere puramente descrittivo nel senso che non presenta alcuni dati grafici ma permette l'importazione e quindi la condivisione direttamente nel motore di calcolo Energy Plus anche separatamente da questo programma di calcolo in modo tale da avere un confronto di conformità dei risultati ottenuti nel programma Cipetermi Plus e direttamente invece dal motore di calcolo utilizzato come a livello singolo appunto vengono poi invece riordinati questi risultati in maniera un po' più agevole per permettere all'utente appunto una visualizzazione più diretta con la presenza sì di tutti i parametri di livello numerico ma anche dei grafici che permettono con una suddivisione per zona l'interpretazione corretta dei risultati ottenuti dal calcolo si tratta di una suddivisione che viene fatta per fabbisogni e consumi nelle quali appunto possiamo ottenere poi i risultati finali da utilizzare appunto per la realizzazione di questa simulazione a regime dinamico e chi sono fuori per le